La maschera è caduta, il re è nudo, la telenovela, la farsa, il grande inganno o semplicemente la buffonata urlandina si arricchisce di un nuovo esilarante episodio. Il racconto è presto fatto. Ieri alla ripresa del lavoro settimanale, reduci dal disperato risultato positivo conquistato a Leonforte, i giocatori dell'Urlandina si sono presentati al micale. Cuore e mente, pieni di gioia come detto, ma anche di speranza perché proprio martedì 18 novembre il presidente protempore, Saverio De Benedictis, aveva promesso il pagamento di alcuni stipendi. Ecco, appunto, ieri l'imprenditore che ha raccolto il testimone da Massimo Romagnoli si è presentato con il petto gonfio e la testa alta per il punto conquistato, che sa di rivincita su critiche e opinione pubblica ma con le tasche vuote. Già, perché il magnate italo-canadese, giunto in pompa magna quasi 15 giorni addietro a Capodorlando, annunciato dall'onorevole Romagnoli come il salvatore della patria, ha mostrato ai giocatori un assegno con scadenza venerdì 21 novembre di 1800 euro. Esatto, la cifra è quella che avete appena udito, solamente 1800 euro da dividere per 18 persone. Quindi, se la matematica non è un'opinione, si tratta di 100 euro ciascuno. Ovviamente, i calciatori, sentitesi presi per i fondelli per l'ennesima volta, hanno chiaramente ed energicamente manifestato tutto il loro disappunto. Niente allunamenti, quindi, fino a quando, beh, fino a quando qualcuno metta loro in mano diverse carte da 100 euro. E a tal proposito, altro coniglio dal cilindro. L'ultimo allenatore arrivato, Antonio Germano, dopo aver dato piena solidarietà ai giocatori, si è impegnato a portare all'ornadina sponsor in grado di garantire il pagamento degli stipendi. Ecco, quindi, il nuovo benefattore. Ma, ritornando al magnate campano tal De Benedictis, sembra che lo stesso giochetto lo abbia messo in atto già in precedenza. Infatti, quando tentò la scalata all'Isernia per tamponare la rivolta dei giocatori che minacciavano lo sciopero ad oltranza, si presentò con un assegno di 6200 euro per soddisfare 42 tesserati, quindi 150 euro a testa. Giochetto, pardon, solito modus operandi, dunque. Dal Lisernia, l'imprenditore, quattro giorni dopo questo episodio, fu invitato, cioè costretto, a salutare la compagnia. Questi fatti, i corsi e i ricorsi storici che si ripetono a Isernia come a Capodornando. Poi c'è un'ipotesi. Forse un piano già studiato a tavolino, da Romagnoli prima, da De Benedictis adesso, o magari da tutte e due insieme per arrivare alla riapertura del mercato, spedire gli attuali giocatori a casa, ovviamente senza soldi, chiamare altri calciatori per poi ricominciare la telenovela? Aspettando magari una clamorosa vincita all'otto per finanziare l'operazione chiamata Armonia, Equilibrio e Sviluppo.